Ma secondo voi, Stepney si dimentica di Chuchu Charles? Assolutamente no! Magari vi siete dimenticati voi e se vi siete persi l'episodio 2 lo trovate qua sotto in descrizione Quest'oggi faremo un progresso nell'interno della storia Dobbiamo trovare ancora due uova e uccidere quel treno maledetto Dunque, noi dobbiamo parlare con sto ti... Ehi? Avete sentito quel rumore iniziale? Lo sapevo! Disgraziato, mi stava cercando E' laggiù nell'obbligo, nella nebbia Ciao Paul! Sono l'amico di Topae Sì, so io Anche se sei deluso di vedere i cacetti rimanendo sulla terra prima piuttosto di ritornare insieme a me Non voglio dire che il tuo aiuto non si è apprezzato Ci abbia fatto comodo anche il suo aiuto Bello! Guarda che Topae si è ucciso da solo Ho sorvegliato quest'area per giorni Charles non ha mai attraversato il vecchio ponte di... Non mi pare Lo sto sentendo anche ora Quindi Questa è una grande cavolata Prendiamo tutti gli scrap ogni volta Lutiamo bene le zone Quando sarà finito questo gioco Che potrebbe essere anche quest'oggi per quanto ne sappiamo Non vi preoccupate che troveremo un altro gioco da aggiungere alla lista dei video che escono Dunque, se sentiamo il suo rumore laggiù in fondo Diciamo che possiamo raggiungere senza troppi problemi il treno Devo andare però qua giù in fondo Piazza gli esplosivi negli otto sostegni del ponte Se non raggiungo il mio trenino vado veramente da poche parti però C'è il lanciarazzi attaccato La nostra destinazione è a 100 metri dall'altra parte però Quindi per cortesia Andiamo Cambiamo colore per adesso in verde Non andare troppo perché tanto è inutile Cioè avviciniamoci Va bene Guarda Fermati per favore Ok praticamente dobbiamo far saltare in aria il treno Cioè non il treno Il treno no Il ponte Il ponte Il ponte Bombe piazzate 0 di 8 Mo le mettiamo tutte Una è qua C'è anche una corda No non posso scendere Un'altra la mettiamo qua Un'altra la mettiamo qua dietro Un'altra la mettiamo qua Un'altra la mettiamo Dove? Qua? Ah! Ah! Aiuto! Ah! Ah! Che figura di me! Sono caduto dalla paura di sotto dal treno No Gravissimo raga Gravissimo No 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 Dov'hai? Dov'hai? Stai buono qui Andava benissimo Dunque Annaccia la miseria Stava andando tutto bene ragazzi Mi ha fatto cagare addosso Sono caduto Va bene Mi mancano solamente due Una la mettiamo qua E una la mettiamo di qua L'avete visto? Abbiamo perso solamente due scrap Non è così grave Anche se è grave Torniamo da Paul per completare la missione Non l'ho capito ma Mo adesso Paul fa saltare in aria il ponte E io poi Quaggiù come ci arrivo? Poi devo fare tutto quanto il giro Ma siete impazziti? Secondo me ci conviene prendere Prima l'arma qua E fare anche le prossime missioni E poi andare di qua col treno E poi far saltare il ponte Altrimenti ci sabotiamo da soli ragazzi E non ha senso questa mossa Tutto dritto Tanto ciu ciu chars Adesso non arriverà a romperci le scatole Potenziamo l'armatura Mancano solamente due potenziamenti qua Abbiamo finito Il treno tra l'altro sta una crema Stoppa 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 Che è qua la missione Comunque sono morto cadendo da là Quando mi stavo appoggiando alla legna E dall'altra parte Ehi ciao Bruttino la tipa Talve Posso prendere anche lo scrap là dietro? Lo prendo da fu... Sei vergognoso Ehi Magari sono stato io un po' sbadato Ci può stare Mi sono affettato Probabilmente ho lasciato un braccio sul filo spinato Ma questi due scrap Bene sono una magra consolazione Ciao Gertrude Si chiama come la mia pidella Il mitico cacciatore è finalmente arrivato Il mitico cacciatore Ma se mi cago addosso Ma una rita ha costruito un'arma Per aiutare a combattere i chars Ma gli scambiassi di Warren Ha rubato le canne E le hanno portate al loro campo Bob era un uomo così coraggioso Molto più coraggioso di me Di me Intendo Prendi quello di un'altra L'arma E l'altro pezzo E poi metti insieme Fammi solo un favore Ti dispiace Se finirai per usarla Chiamala Bob In memoria del mio tesoro Va bene Lo chiameremo Bob Dobbiamo andare all'accampamento Laggiù in fondo Perfetto Perfetto Vi torna Quindi perfetto Prendiamo anche questa missione qua Che è obbligatoria Ciu Ciu Charles Oh no Indietro 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 Ho sbagliato Mi sono testrato Temporaneamente Ci siamo ci siamo eh Piccola retromarcina Frena a mano E via Salve Hello Ciao bello Gale L'archivista In tutto il tuo splendore Mi ha affidato la chiave di una miniera E contiare un uovo Ma prima di consegnarti Devo avvertirti di una cosa C'è un antico tempio Una specie di piramide Con un curioso prisma Sulla scima Il prisma Sembra essere stato progettato Per uno scopo Distruggere le uova di mostro Nel prisma Ci sono tre fori Che si adattano Perfettamente alle uova Quando è completamente carico E mette un'enorme fascia di energia Che sembra provenire Dalle uova stesse Gli ammutinati Sperano che questo evento Possa attirare Charles In un combattimento mortale Poiché verrà a difendere le uova E ora l'avvertimento Del proprio Charles ha le capacità Di assorbire l'energia Della scarica Difendendo così più forte E più furioso Abbiamo già visto una volta Questa volta Potrebbe diventare ancora più pericoloso Tuttavia Non spetta a me oppormi Nonostante il pericolo Ecco la chiave della miniera Quando avrai recuperato Tutte le uova E la chiave del tempio Forse riusciremo a porre Fino a questo inferno Ok quindi è ancora lunga In realtà Perché dobbiamo raggiungere Un po' di cose Alla riunione di ieri sera Greg ci ha raccontato Una folle teoria Secondo la quale Warren cercherebbe Di usare i treni ragno Per dominare il mondo Talmente folle Che è tutto vero Mannaggia la miseria Se siamo riusciti A trovare un villaggio Di villaggeri Dall'altra parte del mondo Dove ne avevamo bisogno Per riportarli a un pillager Può darsi anche Che un treno ragno Voglia ucciderci Considerando che ci siamo Già morti Eh Retromarcia No oddio In realtà Non dobbiamo fare retromarcia Invece si Dobbiamo fare retromarcia Superare il ponte Andare a parlare con Paul Far esplodere il ponte E poi andare avanti Con le altre missioni L'uovo qua giù in fondo E l'accampamento Della banda di Warren Per recuperare La nuova arma Ok superiamo il ponte Sto pettino qua Grazie E noi siamo dall'altra parte Perfetto Così poi possiamo proseguire Fino a prova contraria Si ci dobbiamo fare il ponte a piedi Ma sti gran cavoli Spero che la parte sotto Rimanga integra Perché altrimenti Dobbiamo fare il giro Dall'aggiù in fondo E non è che ne abbia Chissà quanta voglia Ecco qua È il ponte più alto E più debole dell'isola Se ciarlo attraversa Possiamo farlo saltare in aria Sarò pronto a far esplodere le cariche Ma sta a te A tirarlo e combatterlo Tieni Prendi questa È la chiave del tempio Oddio mio Eh no Eh no Non bene adesso Sto cosa Cioè lui mi darà una mano Quindi quando poi Dobbiamo fare la battaglia finale Quindi che ci inseguirà Fighissimo Fighissimo Abbiamo settato Un possibile finale In cui noi lo uccidiamo Grazie all'esplosione Perché potrebbe avere poca vita Questa esplosione Sicuramente lo danneggerà tantissimo Facendolo sprofondare Di sotto nella diga Bene Cioè non è una diga Se ci fosse dell'acqua Lo sarebbe Ad ogni modo Torniamo al treno Dobbiamo proseguire in retromarcia Abbiamo appena scoperto Dov'è il tempio Ora andrei qua Alla miniera Per prendere l'uovo Solo che è protetto Quell'uovo Eh ho paurissima io raga Stoppa tutto Andiamo Andare a piedi C'è il tipo che ci inseguirà Già paura Mi tolgo una cuffia Quando mi allontano Mi abici C'è qualcuno là Ok la sua ronda Passa anche di qua Mi sembra Sto passando da sopra Per evitare di incontrarlo C'è un sentiero Con delle luci E degli scrap Quindi suppongo Sia una buona scelta L'altro uovo Aveva solamente una persona A proteggerlo Voglio ben sperare Che ce ne sia uno solo Anche qui Non so dove sia Scendo Oh sento fischiettare È un problema È un problema Sento fischiettare Laggiù in fondo E là Devo andare per forza Lì e abbassare Questo ponte Probabilmente Oh no Oh no Calmo Calmo Non so Non so sincero Come Oh no Oh mio dio Oh mio dio No Veroce Se arriva siamo morti Non solo scrap Non solo scrap Non solo scrap Non solo scrap Ti prego La pittura Che me ne fa Ok 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 ha tirato dritto Via via Ormai più Dov'è Veloce Veloce Resù Sono chiuso qua Mio dio Mi addio Molta paura in questo momento Raga No 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 Stai inseguendo Raga Veloce Ah Ma è già qui Sì vabbè Ciao Nebello Ma che c***o stiamo dicendo Ma che stiamo dicendo Mi devo togliere questo Sono paurissima Ah Io sono in via Tua sorella Ho l'uovo raga Ho l'uovo Sto scappando Anzi A duemila Ciao Sa sarà Me ne vo Ciao 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 Devo correre al treno Non so dove diavolo è Corri Stefanino Muoviti Dov'è il treno Get the guy Get the guy Get the guy No Oh mio dio Questi sono i binari Oh no Quello è il ponte Oh no Oh no È dall'altra parte Il mio treno Morirò qua Morirò qua ragazzi Ho sbagliato strada Dovevo andare Pannacce L'unico problema È se arriva Ciu Ciu Charles Se arriva Ciu Ciu Charles Siamo morti Sto tornicando leggermente Sulla destra Ora che penso di aver guadagnato Leggermente tempo Non mi giro Perché se mi giro Muoio di infarto raga Non ci sono più Top Ha funzionato il mio piano L'abbiamo seminato Devo arrivare al treno Se non muoio Ciao Ciao belli Che goduria Teoricamente adesso Dobbiamo andare all'accampamento Della banda di Warren Per prendere l'arma E poi ci mancherà solamente Un uovo E la battaglia finale Raga Qui c'è la miniera E qua giù c'è il tempio Wow Oh no Oh no Aspetta 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 Qua Ah C'è il nostro amico Ok Ma qua c'è una chiesa Io voglio esplorare tutto Voglio sapere tutto Sicuramente ci sono scrap Sicuramente possiamo entrare Hello Ma salve Guardate c'è una lettera Al reverendo Il sermone di oggi è stato una vera ispirazione In questi tempi difficili Molto ben organizzato E completo in ogni senso Credo di parlare noi di tutta la congregazione Quando dico che ammiriamo La sua fiducia E la sua firma saggezza Mentre piangiamo la scomparsa Di nostri fratelli e sorelle Ok Quindi questa è la chiesa Tutti gli effetti Scaletta del sermone Dio è molto molto arrabbiato O almeno credo Charles forse è il diavolo Sicuro al 96% Sempre subdolo Serpente o ragno I ragno hanno più zampe Di solito Dio vince sempre Si spera Sacrifici Chiedere volontari Non piangere molto Solo un po' Preghiera conclusiva Riordinare Ok Bene Dopo questa lista stramba Abbiamo trovato anche la pittura nera Abbiamo fatto bene a fermarci qua È incredibile Come l'unica pittura che vorrei Che è la rossa Non c'è Per quale motivo? Per quale stupidissimo motivo? Il mio colore preferito Non viene disponibile Come pittura del treno Comunque stiamo andando in retro Direi di proseguire in retro Vammonos In retro detto Guardate che bello Oggi abbiamo trovato La nera che è qua giù in fondo E la blu La blu sembra quasi viola comunque Ho sbaglio Cioè viola è più Quasi lilla La blu è quasi viola E il nero è nero invece Un po' dorato in alcuni punti Sembra rovinato Vabbè Lo teniamo blu Non devo andare indietro Devo andare avanti Mannaggia la miseria Siamo di nuovo sul ponte Scopriremo se andiamo a sinistra Ecco lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo tanto eh Lo sapevo Gentilissimo Ripartiamo subito No Eh no Mortacci tua La vedi la freccia? Grazie Molto bene Siamo a sinistra stavolta Sento dei rumori Ma non mi farò troppe domande Dobbiamo proseguire Dobbiamo recuperare l'arma Sulla sinistra E poi Andare alla miniera Per prendere l'uo Wow Direi che possiamo anche Fermarci qua volendo No? Stop 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 Eh vabbè Inizio già a fare il cambio raga Oh mio dio Oh mio dio Ma sono tutti qui Oh No 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 Sei matto? Oh Oh Ma non avevo mica capito Ma quelli sono lì Sono proprio nel mezzo Io devo addirittura ammettere di andare a sinistra Oh Stanno tornando Oh Oh L'ho schiacciato uno mi sa L'ho schiacciato l'altro Ma non muoiono? Penso di sì Fammi tornare leggermente in retromarcia Penso di averlo ucciso o no Comunque equipaggerei anche un'altra arma ecco Vediamo un po' Se vogliono ancora fermarmi Dove siete? Di brucio! Adoro Adoro questo gioco È ancora vivo? What? Ma in che senso? Sta arrivando Aiuto Mi sta sparando Madonna raga Col mitragliatore adesso lo distruggiamo Non c'è modo che si Oh Ma che vuol dire? Oh Raga Ma che scemenza è? Che scemenza è? Ma io scendo qua Comunque siamo arrivati qua al campo Non so come Siamo vivi Il treno è andato avanti Zitti zitti abbiamo raggiunto l'obiettivo Credo Salve C'è una chiave? Buonissima penso Buonissima Fondamentale Scrap Mi va bene Qua ci dovrebbero essere i pezzi Di un'altra arma Quindi Andare a recuperarli Ma da dove? Mi stai seguendo dall'altra parte Ma dai Oh mio dio Mo' mi spara Garantito Cos'è? Oh Via Oh Oh Gli ho fregato Da sotto al naso Il treno dovrebbe essere qua Raga Che missione Abbiamo preso anche un botto di scrap Ho paura perché devo raggiungere il treno il prima possibile Se arrivo a ciucciare Siamo morti Devo ripararlo Ripariamo subito 1,2,3,4 E armatura di livello A Perfetto Stop al volo Che ho visto che c'è una cassa No, 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 no È assurdo È assurdo È assurdo che non muoiano È assurdo Aiuto Aiuto Ok Noi volendo Potremmo anche fermarci qua Scendo Perché in teoria Oh Sono frantumato una gamba Noi qua Abbiamo una miniera Zitti zitti Piano piano Ci avviciniamo Bono Non c'è nessuno Mi sembra Per ora Questi scrap Fanno comodo Entro allora Se non è un problema per voi Bono Scrap Ma Ma Sta arrivando Sta arrivando Devo sbrigarmi Devo sbrigarmi Raga sta arrivando L'ho sentito Veloce stè Veloce Oh mio dio Stava arrivando Siamo dentro la miniera Questa è la miniera del terzo uovo Uh Lulululul Eh certo Ci doveva essere Forse qualcuno a fischiettare Ti pareva Dove vado io? Come faccio? Capiamo la sua ronda Qual è? Va sopra E torna indietro Oh no Oh no è finita Deragliamo sicuro Eh ma ma porca di quella miseria Ma capisci Eh ma che vuol dire Ma che vuol dire Ma che vuol dire Ma dai Ma ehi che Ma ero lontanissimo Comunque non abbiamo neanche visto Quella nuova arma Il Bob Il Bob sembra forte Sembrano due Barrett Porca miseria Se mi fai una piccola retromarcina Mi fai un grande favore Che ci avvicino Sta arrivando Sta anche arrivando Non so se avete capito Stop a tutto Devo scendere al volo Dico solo Meno male che non hanno messo Nessuno qua fuori E mi sparava pure da qua Anche altrimenti Era un problema Comunque sicuramente Devo Aspettare che passi E poi rannarla Mi sa che sta arrivando Molta paura In ogni caso Molto bene Adesso non facciamo Lo stesso errore Di prima Per favore Ora che lui Passa e va là Tiriamo dritto Velocemente E qua All'altro Ok La sua ronda Non so quale sia Ma Ci mettiamo dietro di lui Lá c'è una mappa Non ci posso credere Eh vabbè Ma dai Ma ero dietro Raga Ma che stupidaggine Ciao Oh mio Dio Ha funzionato Raga Qua c'è un altro Che non è ancora triggerato No Non mi dire che Eh vabbè Te ne affangala Shouldn't be here Oh Eccolo È lui È lui E vabbè E vabbè Tua mamma Tua mamma E non è proprio simpatica Eh Eh no Se questo t'ha insegnato Non bene Sparare così Al primo che incontri È un labirinto Raga È un labirinto È finita È finita raga È finita Mi dispiace molto No Ma che sta succedendo qua Non Non credo di aver capito Più che un horror Mi sembra un fair Mario Prima parte raga Andata super safe Avete visto come fare eh Se volete farlo anche voi Quatti quatti Mi raccomando La torna indietro Secondo me Perché è un vicolo Ok Abbiamo l'uovo eh Calmi 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 Buono 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 Buonissimo Mitico Fantastico La rossa La rossa No way E ora Oh mio dio Questo qua non è lo stesso di prima Credo Sono andato tutto dritto Siamo fuori Eh vabbè Eh certo Eh certo Mi sembra normale Cioè io sono salito E questi mi stanno sparando Vi ricordo che non posso manco ucciderli Se arriva a ciucciucciare siamo morti Cioè io ho il terzo uovo Io ho il terzo uovo Non so se mi sta inseguendo Ma credo proprio di sì Ecco infatti sono in due Non è proprio giustissimo Per quanto mi riguarda eh Guardali là Vergognosi Abbiamo preso l'uovo E anche la pittura rossa Incredibile È l'ultima da prendere Non lo sapevo Ti avrà fatto apposta però Buono Buono Buonissimo Siamo giù Eh ecco c'è la ferrovia Quindi il treno Il treno Treno Andiamo tutto dritto adesso È tutto dritto Ciglio sulla destra Scappa 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 Ok Ripara un pelo Non possiamo portarlo A livello massimo Ma non importa Raga abbiamo la pittura Anche rossa Fantastico Fantastico Direzione Il tempio Quindi speriamo che ci mandi A destra E ovviamente C'è andata a sinistra Vaffan cuore Però aspetta 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 Magari ci potrà aiutare Perché se qua troviamo degli scrap Bono Oh ma è la miniera da fuori Eh vabbè Il davanti non l'avevo lootato Ci sono degli scrap Che possono portarmi al massimo l'armatura Sarebbe figo Poi direte Ma si è appena scappato di qua Ma che mossa è Tranquilli I don't know what I'm doing Oh no Oh no Per l'amor di dio Per l'amor di dio Sto scappando raga Sto andando al treno Ti prego Corri 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 Bello Rosso Bellissimo Retromarcia Quindi abbiamo detto Si può potenziare No Ne mancano un bel po Peccato Diciamo che qua dovrebbe esserci lo scambio Switch a tutto Devo fare in fretta Perché sta arrivando Ciu ciu chars Il combattimento finale Al tempio ci aspetta Ragazzi Che figato Ci possiamo anche riparare Perché mica è detto che vinciamo eh Ci potrebbe anche uccidere Per quanto ne so Finiscilo Attira chars con le uova E poni fine al regno del terrore Woo Stop Ci siamo È qua ragazzi Ma c'è gente Ma che caspita Ma non mi aspettavo gente Ho molta paura Eccomi Sono dentro Entra entra Vai 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 Raga The main event Un piccole uova Bellissime One Sascha così Inglobato Giuse E ste Così Suri non si sa Che finale ha fatto Step away from the shrine Stranger You don't know What you're doing Just put the egg down slowly And lay flat on the ground You'll hurt far too many people If you follow through With whatever you're planning Ma è leggendario Cosa abbiamo combinato Oh mio dio Oh Oh cavolo Mi sa che abbiamo combinato Un guaio Stanno scappando tutti Warren è andato Eh Ve lo dico Trenno rosso Come lui Spero gli piaccia Vai di verde Vai di verde Vai di verde Ah Mortacci tua Spara Perché non spara Sparagli finchè non muore Ma questo coso non spara Brucia Aiuto raga Aiuto Paurissima Paurissima Questo coso probabilmente vince Sparagli finchè non muore Sparagli finchè non muore Ma che vuol dire Ma questo rovo non morirà mai È troppo grosso Che cos'è questo Vai di lanciafiamme All'amor del cielo È sempre più vicino Ma che vuol dire Il treno sta per essere distrutto No 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 Ripara tutto Ripara Ma sei impazzito Oddio Il deposito iniziale dei treni Dove tutto ha avuto inizio Che è successo Esploso Oh Io sparo finchè non si surriscalda il bar E questo fa male Il bob fa male Gli spariamo in faccia Gli spariamo in faccia Non so in realtà se la cosa migliore è in faccia Vai E dagli un po' fuoco Come gli indigeni su the forest Che tanto è uguale Più o meno Questo è il lanciarazzi Vai Vai in faccia Boom Danneggiato parecchio Credo Sembra Sembra Oddio Sembra sempre più forte Sembra Mi sta distruggendo Ragazzi Stiamo per morire Stiamo per morire Per fortuna Va veloce Ok Mi allontano un sec Datti dare fuoco un pelo Ragazzi Prima volta ovviamente Che faccio una cosa del genere Però mi sembra Di starmela cavando piuttosto bene Perché questo Non è per niente male Più che ne danno costante Mi sa che con questo Sulle zampe è meglio Abbiamo riparato il treno Avete visto Abbiamo fatto bene A prendere quegli scrap Perché sì Non abbiamo potenziato L'ultima cosa Oh si sta arrabbiando Di brutto E ogni cinematica Secondo me È un punto a favore Un punto a favore Secondo me conviene Cambiare arma comunque Piuttosto che ricaricare Il treno sta per essere distrutto Raga Sta per essere distrutto Non abbiamo più rottami Non abbiamo più rottami Difficilino Mi sembra Il gioco salva automaticamente I progressi mentre giochi Lo sapevamo Riprendi sempre Da dove hai lasciato Vai Vai Per l'amor di dio Vai Subito quello in faccia Mannonna Qui non possiamo sbagliare nulla Neanche un secondo Ogni volta che un'arma si scarica Switchare Passare a quella successiva E smitragliettare il più possibile E quando succede questo Non lo so Fatti potere Trasporto temporale Vai avanti a quella dopo E vai di lanciarazzi E ricarica E vai di lanciarazzi Boom Sudisce Secondo me lanciarazzi Ovviamente la più forte in assoluto Come potete vedere Avvicinati vai se hai coraggio Vai così Questo è fortissimo Si teletrasporta Ma tanto io ti baito Che me frega me Forse se è troppo vicino Non conviene sparare con lanciarazzi Guardate la vita Ovvio che conviene sparare con lanciarazzi Oh dobbiamo switchare Più che altro dobbiamo curarci Vai vai Pum Pam Pam Siamo più o meno a metà nuovamente Secondo me ci sono delle animazioni Che appaiono ogni tanto Quando gli fai raggiungere determinati step di vita Metà Comunque raga Che caspita sto vedendo In ogni caso Che si sarebbe aspettato Un gioco del genere Vai così Quello era il bob Questo è il lanciarazzi di nuovo Questo è il lanciarazzi Determinante Vai che curiamo il treno Che sennò si distrugge Boom Boom il bob Boom il bob Io ho il bob Lo facciamo per lui Che Gertrude ce l'ha chiesto Vai Vai Di fiom De flon De flon 75% raga credo Dov'è Dov'è La chiudiamo con Paul probabilmente Dov'è Dov'è il treno Non posso vedere la mappa Posso vedere dove siamo posizionati in questo momento purtroppo Questo ha fatto male Switch a un pelo Vai di lanciarazzi Boom Dritto into the face Due Due Oddio Ci ha fatto male Spara Pochissima vita Vai di bob per chiuderla Di bob Di bob Di bob Oh no no per favore Resisti Resisti Anzi lo facciamo per Eugin raga Per Eugin Con la sua arma principale Eugin lo faccio per te Muori Muori Ci abbiamo fatta Il ponte Let's go Let's go Boom 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 A casa Mi diritto in stratosferia Fai schifo Sei un ragno Quindi fai schifo Eh An laki Tra l'altro Non l'abbiamo mica costruito noi quel coso Ma che figata Che figata è Per me è fighissimo Comunque Cioè breve come storia Ma fighissimo Un po' strambo Probabilmente Cari amici Termina così L'avventura di horror Diciamo thriller psicologico Più o meno Di Ciu Ciu Charles Spero vi sia piaciuto Se così è stato Tanti pollicioni in su Commentati Iscrivetevi al campanellino E suggerite Il prossimo giochino Particolare A portare sul canale Iscrivetevi al canale Perché ci saranno Tantissimi contenuti Questa per tutto Comunque Anche decisamente Splatter Oh Non è finita Che significa Che c'è un Una scena finale È fin da Marvel Ciu Ciu Charles Tornerà Non credo Quell'uovo L'abbiamo messo noi Però in cima No E quindi queste uova A chi appartenevano Essenzialmente A un mostro Ma quale mostro Charles Se erano di Charles Là dentro Ci sono dei treni Di nuovo Cosa Ma cosa c'è là dentro Tra cinque anni Raga Come sono The Forest Fighissimo Che c'è la sua